Tosdemir, secondo Biagio Danelli, i due colleghi avrebbero dovuto sposarsi, ma un tradimento avrebbe mandato all'aria le nozze. Scopriamo tutti i dettagli in questo nuovo video, ma prima di andare avanti, non dimenticate di mettere like al video e iscrivervi al canale, e attivare la campanella per non perdere nessuna news. Gianni Aman e Dime Tosdemir sono finiti al centro del gossip per un retroscena sul loro conto, rivelato da Biagio Danelli. Infatti nella serata di mercoledì 4 agosto, durante una diretta Instagram, l'ex Geffino ha rivelato che i protagonisti di Daydreamer leali del sogno avrebbero avuto una relazione in passato, e sarebbero dovuti convolare a nozze. Secondo Danelli, però, la storia d'amore fra Gian e Dime Tosdemir si sarebbe interrotta a causa di un tradimento. Nelle puntate della Sop Turca Daydreamer leali del sogno, i protagonisti Gian e Sanem hanno avuto una storia d'amore che ha appassionato il pubblico. Gli attori erano così affietati, che in passato erano circolate indiscrezioni riguardo ad una ipotetica relazione fra l'attore di Istanbul e Dime, ma mai confermata dai diretti interessati. Viaggio Danelli, però, ha parlato di quanto sarebbe avvenuto tempo fa tra i due attori. L'ex Geffino ha rivelato di aver fatto una videochiamata con un giornalista turco, che avrebbe dichiarato che Gianni Aman e Dime Tosdemir sarebbero stati pronti a sposarsi, ma il matrimonio non sarebbe stato celebrato in seguito ad un tradimento da parte di lui. Dopo aver confermato di aver parlato sia via Instagram che Whatsapp con il giornalista, Viaggio ha proseguito il racconto, confidando altre dichiarazioni ricevute dal professionista turco. Era vero il fatto che con Dime Tosdemir lui doveva sposarsi, ma andò tutto a monte perché lui la tradì e lei lo beccò in un hotel con una ragazza. All'epoca venne pubblicato su una fanpage di Dime, anche un video e le foto di Khan che era in hotel con una ragazza. Se la presunta relazione tra Gianni Aman e Dime Tosdemir è ormai relativa al passato, attualmente sta tenendo banco la storia d'amore tra Gian e Diletta Leotta. Negli ultimi giorni, sono circolate indiscrezioni riguardo alla rottura del fidanzamento, fra l'attore turco e la conduttrice sportiva di Dazon. Dopo essere stati qualche giorno in Turchia, e aver trascorso le vacanze insieme, Gian e Diletta si sono allontanati. La coppia, non ha mai smentito né confermato le voci sul proprio conto. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire se il fidanzamento, fra Gianni Aman e Diletta Leotta è realmente terminato. Cosa ne pensate del presunto matrimonio che ci doveva essere tra Gian e Dime Tosdemir? Gianni Aman veramente avrà tradito Dime Tosdemir? Scrivete la vostra opinione sotto in descrizione. Prima di lasciarci, non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna news. A presto da Serie TV Italia.